Lottata avanti, nonostante tutto, è il trionfo della misericordia e manifesta al mondo, quindi il carisma del matrimonio, e manifesta al mondo quell'altra misericordia eterna ed infinita che Dio ha per noi. Dio infatti è fedele a quell'amore che largisce a noi. Nessun peccato, per quanto grande, prevale sulla forza di questo suo amore misericordioso. Il matrimonio vissuto cristianamente non dà neanche spazio all'infedeltà, nemmeno sul piano del semplice desiderio. Se tu guardi una donna con desiderio di possederla, hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Non dà spazio neppure all'indelicatezza e all'egoismo sessuale. La tua moglie non è una cosa di cui tu ti possa servire, è una persona da amare. Nella propria prospettiva cristiana del matrimonio, i figli non possono essere visti che come dono di Dio. Dono del Signore sono i figli, leggiamo nella Bibbia, figli che una coppia desidera perché siano coinvolti nell'esaltante comunione con Dio. Perché facciano crescere la famiglia di Dio, perché costituiscano questi figli il materiale per eventuali chiamata al sacerdozio e la vita consacrata. Io vorrei che il rinnovamento si aprisse con generosità all'accoglienza dei figli, la mentalità che va entrando dovunque, anche nelle nostre parti, figli meno che sia possibile. L'ideale è un maschietto e una femminuccia. Per conseguenza, quando il Cardinale De Giorgi proponeva di fare un'ora di adorazione per l'evocazione, mi veniva la voglia di dirgli eminenza. C'è necessità non di fare adorazione per l'evocazione. Perché se figli non ce ne sono, ma dove Dio deve andare a prendere queste vocazioni? L'adorazione, se dobbiamo farle, è che veramente le coppie siano generose nell'accogliere i figli. Non i figli che la coppia decide di averle, ma quelle che Dio vuole che tu abbia, che è diverso il caso. Figli dei quali una coppia si prende cura sia sul piano umano che su quello cristiano. Sul piano umano, dando loro, prima che il pane materiale, l'amore e la testimonianza del loro mutuo amore. Fratelli, ve lo grido qui. I figli, prima, l'eredità più grande che voi potete dare loro, non è l'appartamento, non è il conto in banca. E vedere che papà e mamma si vogliono veramente bene e si amano. Questo incide profondamente nella loro psiche. Io non dimenticherò mai una mia esperienza. Nella mia vita non ricordo mai una sola volta che mio padre abbia abbisticciato con mia mamma. Mi ha segnato profondamente questa realtà. Sino al punto che quando avevo 14 anni il mio direttore di seminario, a mia insaputa, mandò un mio scritto a un grafologo, io mi trovavo a Caltanissetta, a un grafologo che si trovava a Cuneo. Ecco, risposta, è un ragazzo che è vissuto in un ambiente in cui regnava sovrano l'amore. Non mi conosceva quello. Ma dalla scrittura emergeva tutto questo. Io vi dico, è lì dove ci sono tensioni, dove saltano via piatti, dove si rompono bicchieri, dove a un certo punto pugni a destra, a sinistra, dove si comincia a parlare di separazione. Questi figli, l'incidenza psicologica negativa sarà terribile, se la porteranno per tutta la vita. Persone addirittura che trovano difficoltà a sposarsi perché l'incoscio, i riflessi condizionati, c'è un veto, non andrà al matrimonio perché ti accadrà quello che sta accadendo a papà e mamma in casa. Poi sul piano cristiano, educanti i figli nella fede e in una vita autenticamente cristiana, soprattutto con l'esempio. Una coppia che vive cristianamente il suo matrimonio sentirà una repulsione istintiva per l'aborto direttamente procurato. E' infatti consapevole che il comandamento di Dio non uccidere, non può essere vanificato mai, neppure da una legge permissiva. Sa che l'aborto è un crimine nefasto contro un essere innocente che è impossibilitato a difendersi e che può contare solamente sull'amore dei genitori. Essa sente perciò che non dovrà mai tradire le attese della propria creatura. Gli sposi cristiani che vivono cristianamente il matrimonio sono aperti infine ad accogliere tutti quei figli che il Signore vorrà loro donare. E quando per motivi gravi sono costretti ad evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova gravidanza, gli sposi cristiani ricorrono nei rapporti sessuali ai giorni infecondi, rispettando così la volontà di Dio che chiede che l'atto sessuale sia posto in maniera da essere sempre espressione di donazione totale sia sul piano spirituale che su quello fisico, senza dunque quelle manipolazioni o alterazioni proprie delle diverse forme di contraccezione che sono moralmente illecide, come ebbe a dire Giovanni Paolo II. Ecco, fratelli, il matrimonio sacramento, dono veramente stupendo che Gesù ha donato alla sua Chiesa. Esso, oltre ad essere segno dell'amore di Dio verso gli uomini e di Cristo verso la Chiesa, oltre a costituire una cooperazione con Dio per la creazione di una nuova vita umana, riflette anche il mistero trinitario. Devo confessarvi che questo che vi dirò l'ho capito appena da un anno, perché i condi prima non mi risultavano, adesso mi risultano perfettamente, e l'ho capito. Se voi leggete la Bibbia all'inizio, c'è messo che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, lo ricordate? Però l'uomo che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza è l'uomo maschio e femmina, Dio li creò. Dunque, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina lo creò, quindi l'uomo creato all'immagine e somiglianza di Dio è il maschio e la femmina nel matrimonio. Il matrimonio diventa a questo punto l'immagine di Dio. E siccome Dio è un etrino, vuol dire che questa trinità deve essere presente nella coppia. Mi sono chiesto ma com'è possibile tutto questo? Adesso l'ho capito e ve lo spiego. Guardate, cosa fa Dio dall'eternità? Dio dall'eternità ama se stesso, è vero? Se ama se stesso vuol dire che Dio è contemporaneamente amante e amato. Ama, amante, se stesso amato. Amante e amato. Da quest'amore di Dio di se stesso genera il figlio. C'è il figlio e il padre, la corrente di amore che è lo Spirito Santo, che avvolge in un abbraccio il padre e il figlio. Andiamo alla famiglia. La famiglia, marito e moglie, sono ormai una unità, una sola carne. Chiaro? Ecco, questa unità di una sola carne del marito e della moglie riflette l'unità di Dio. All'interno di questa unità, una sola carne, c'è un amante e un amato, come in Dio. da quest'amore viene il figlio. Tra il figlio e i genitori una corrente di amore, lo Spirito Santo nella Trinità, che avvolge i figli e i genitori. Che meraviglia! Invece c'è il mistero trinitario presente. Ecco, cioè percepire questa realtà e lodare e benedire il Signore per questo dono grande del matrimonio che ha donato alla Chiesa. Dunque un dono il matrimonio, ma un dono insidiato. Da chi? Insidiato dai dominatori di questo mondo, come li chiama San Paolo nella lettera degli Efessini, ossia dal diavolo e dai demoni. Essi creati buoni diventarono cattivi per una loro libera scelta peccaminosa. Da allora essi nutrono odio verso Dio e verso gli uomini. Nel loro odio vogliono strappare dal cuore degli uomini quella vita divina che è stata loro donata, che li rende partecipi della natura di Dio e inoltre figli ed eredi di uno smisurato ed eterno grado di gloria. Mentre Dio vuole che tutti gli uomini siano saldi, il diavolo e i demoni desiderano che tutti gli uomini invece si dannino. A questo scopo utilizzano l'arma più pericolosa nelle loro mani che è la tentazione con la quale cercano di inturre l'uomo a peccare e a staccarlo così da Dio e dalla salvezza che viene da Lui. Il diavolo e i demoni odiano dunque Dio, odiano gli uomini e odiano anche le cose belle che Dio ha fatto e tra di esse e tra queste cose belle che Dio ha fatto soprattutto odia il matrimonio che come abbiamo detto è il segno dell'amore che Dio ha per gli uomini cosa che essi non sopportano. Io negli esorcismi me ne rendo conto. A volte quanto dico per esempio che è il produrgo di San Giovanni che per volontà Dio li ha come dire gli uomini resi figli suoi nati non da sanque né da carne ma da volontà di Dio sono resi figli le ire le rabbie del diavolo nel percepire che questi uomini sono amati di Dio. E io lo faccio di proposito a stuzzicarle noi siamo piccoli siamo fragili siamo deboli ma Dio ci ama Dio ama e ci sono le ire da parte del diavolo e siccome il matrimonio è segno lo ha preso Dio come segno di quest'amore verso di quest'amore suo verso gli uomini segno di quest'amore naturalmente il diavolo odia il matrimonio matrimonio che è anche sorgente della vita e quindi di nuovi uomini che saranno oggetto dell'amore di Dio di nuovi uomini chiamati a edificare la Chiesa corpo e santo sposa del suo figlio sposa che il figlio suo ama con una tenerezza tutta particolare cosa che il diavolo e il dimoni non sopportano per questo cercano con la loro azione ordinaria costituita dalla tentazione e con la loro azione straordinaria costituita dalla possessione e dalla vessazione di distruggere il matrimonio dietro dietro tutti i fallimenti di matrimonio dietro dunque tutti gli adulteri i divorzi le convivenze i matrimoni civili costruiti spesso sulle macerie dei divorzi dietro anche gli aborti dietro il matrimonio degli omosessuali dietro tutte le discordie e le tensioni in famiglia dietro la pornografia di cui a volte si nutrono in famiglia tanto figli che genitori c'è quasi sempre l'azione del diavolo o dei demoni che fa l'amplificazione alla volontà degli sposi ai quali essi non tolgono la libertà e quindi la responsabilità delle proprie azioni ma ne amplifichano l'attività perverterrice del matrimonio perché essa abbia maggiore risonanza nella società e coinvolga così più facilmente altri sposi nella distruzione dei matrimoni e la parola di Dio e il magistero della chiesa e la mia esperienza di esorcista che mi hanno convinto che le cose stanno così e innanzitutto la parola di Dio voi sapete che chi è stato responsabile del tradimento di Gesù fu Giuda libero tanto che Gesù ebbe parole forti su di lui sarebbe stato meglio per quell'uomo se non fosse mai nato perché queste cose non si fanno ma dietro di lui c'era Satana San Giovanni ce lo fa sapere avendo messo il diavolo nel cuore di Giuda di Terredì il maestro dunque dentro a quel cuore libero c'era anche Satana che faceva l'amplificazione che ha ucciso Gesù certamente la sentenza di Ponzio Pilato ingiusta gli ebrei che glielo hanno consegnato perché tanto che Gesù dirà a Pilato tu stai peccando e chi mi ha consegnato a te ha peccato ancora di più sono responsabile ma dietro di loro c'è il diavolo che vuole la morte di Gesù e in una circostanza Gesù l'ha detto voi avete per padre il diavolo e volete seguire i suoi desideri nel contesto era quello di ucciderlo quindi Gesù sta rivelando che c'è un desiderio da parte del diavolo la soppressione di Gesù ora da questo noi cominciamo a capire che il modo di agire del diavolo di allora è sempre così continua quindi una tale attività di amplificazione da parte del diavolo che riscontriamo nel Vangelo rivela la sua modalità di azione egli ha agito agisce ed agirà sempre così anche all'interno delle famiglie ha lo scopo di distruggerle si inserisce abilmente in esse dove c'è già in atto un'attività dei membri che si rivela negativa per il matrimonio e amplifica tale attività in modo che porti maggiori danni adesso fino alla sua distruzione e tutto si ripercuota così con maggiore incidenza nella società in modo che altre famiglie a catena siano coinvolte per la loro distruzione è per questo che San Paolo scrivendo ai tessalonicesi disse che il mistero dell'iniquità era già in atto e Giovanni Paolo II circa 2000 anni dopo osservando la società del suo tempo dirà che il mistero dell'iniquità continuava a segnare la realtà del mondo in quella realtà del mondo segnare